Il narcisista o la narcisista ha un comportamento promiscuo e molteplici relazioni a breve termini. Allora, questo accade perché i narcisisti vogliono alimentare il proprio ego e quindi lo fanno cercando tante relazioni promiscue, sessualmente promiscue. Se l'uomo, diciamo, relazione a breve termine, se è donna anche, se appartiene alla tipologia narcisista zoccola, quindi attraverso il sesso, se appartiene alla tipologia narcisista santa, tra virgolette, attraverso il coinvolgimento emotivo. La narcisista zoccola è quella di più bassa lega, di più basso livello, quella, diciamo, santa è più raffinata, ma comunque alla fine l'obiettivo è sempre lo stesso. Hanno comunque questa caratteristica di creare tante relazioni a breve termine per rimanere in modo ossessivo quasi, in modo tale da rimanere sempre, diciamo, con qualcuno disponibile. E le cambiano rapidamente. Il loro obiettivo fondamentale è cercare quel poveraccio, diciamo, poveraccio da svuotare il conto in banca o da ottenere comunque dei favori. Non hanno mai una relazione empatica, positiva. D'altra parte sono infelici, spesso sono depressi, hanno atteggiamenti compulsivi, come shopping compulsivo, ad esempio, comprano, oppure iniziano ad avere delle fisse mentali, come ad esempio, che ne so, vogliono diventare super, diciamo, bodybuilder, per fare un esempio. Iniziano diete assurde, con allenamenti assurdi, ma non lo fanno per lo sport, perché quello sarebbe un altro discorso. Lo fanno per poter sembrare più belli, in realtà sempre c'è se sono. Ma, e anzi, hanno le donne in questo caso tratti molto mascolini. Lo stesso discorso può valere per i maschi, ma comunque fondamentalmente la cosa principale è questa, diciamo, carica di, diciamo, come dire, malvagità che si portano dentro e distruggono fondamentalmente tutte le situazioni che incontrano. Quindi bisogna stare molto attenti quando si incontrano persone di questo genere, con una promiscuità, perché dietro è probabile che ci sia il lupo cattivo o la lupa cattiva, è probabile che si nasconda il narcisista. Quindi fare molta attenzione, mandare a fanculo il più rapidamente possibile e soprattutto la cosa fondamentale è evitare di coinvolgersi, perché sono persone altamente tossiche, altamente maligne, altamente distruttive, che vanno, diciamo, distrutte il più possibile fondamentalmente e lasciate perdere. Scrivetevi al mio canale YouTube, Massimo Tramasko, seguimi su Instagram, su TikTok e ti do appuntamenta.